Carissimi cittadini, quest'anno festeggeremo San Pancrazio in maniera del tutto nuova e diversa, un San Pancrazio che resterà nei nostri ricordi. Le restrizioni imposte dal coronavirus ci impongono dei festeggiamenti a porte chiuse e senza popolazione, ma grazie a un valido gruppo di collaboratori che abbiamo deciso comunque di festeggiare e di onorare il nostro Santo e le immagini che seguiranno ve lo testimonieranno. Grazie a tutti. 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 San Pancrazio rappresenta la festa più importante per i campolesi, per i campolesi vicini e per i campolesi lontani. E io, a nome della mia amministrazione, non posso fare altro che augurarvi buona festa di San Pancrazio e viva San Pancrazio. Anche quest'anno, nonostante il coronavirus, a nome di tutto Campoli gridiamo Viva San Pancrazio! Viva San Pancrazio! Viva sempre San Pancrazio a Campoli! Ciao a tutti. Oggi ricordiamo il nostro grande padrono San Pancrazio e io dal seminario dei missionari del preziosissimo sangue voglio dirvi che la mia preghiera è per voi e per tutta la comunità di Campoli Appennino. Anche se non festeggeremo con le luci, ma San Pancrazio prega per noi, prega a Dio affinché la sua protezione sia sempre sulla nostra comunità. Oggi vi mando un grande bacio e prego per voi. Ciao e viva San Pancrazio!